Aron ha ricordato i nove partigiani della brigata Servadei caduti nell'imboscata di Montrigiasco il 16 marzo del 1945. Alla cerimonia c'era pure una delegazione dell'Ucraina con tanto di vessillo giallo-azzurro. È stato il sindaco Federico Monti con il vice Alberto Gusmeroli a rappresentare l'amministrazione. Dice, noi oggi siamo qui proprio perché loro si sono sacrificati per noi, per la nostra libertà, ha detto Monti. In questo delicato momento ricordare il loro gesto e dovere nostro e delle future generazioni. Molti parenti delle nove vittime sul luogo del sacrificio, presenti con i labri le associazioni combattentistiche del novalese Cusio e VCO. La presidente dell'AMPI di Arona Lucia Caruso ha fatto l'appello dei nove martiri. I partecipanti hanno risposto con il classico presente. Gli alpini hanno depositato due corone dall'oro, una al monumento e una alla lapide che ricorda il sacrificio di Angelo Niemmi. Era presente pure il ciclista della memoria Giovanni Bloisi di Varano Borghi. Per il comune di Meina c'erano il sindaco Fabrizio Barbieri e l'assessore alla cultura Giovanna Aldeni. Il tragico agguato di Montrigiasco si deve al tradimento di un cameriere di un hotel di Meina dove stazionavano le truppe dell'SS. Costui, in cambio di 30.000 lire, avrebbe indicato i tedeschi il luogo e l'ora in cui la pattuglia sarebbe rientrata verso il motarone. Stavano trasportando verso l'accantonamento ubicato in montagna un bottino di armi e munizioni. Nove partigiani non poterono sfuggire alla trappola, vittime dei tedeschi su quella strada allora polverosa. I loro nomi, Rolando Bariselli, 17 anni, di Omenia, Gabriele Biava, 17 anni, di Crusinallo, di Omenia, Martino Barni, 18 anni, di Inveruno, Albino Bonicalza, 20 anni, di Cassano Magnago, Gianni Giori, 22 anni, di Arona, Pierino Manni, 19 anni, di Gevio, di Meina, Carlo Mozzi, 32 anni, di Pavia, Aldo Sala, 24 anni, di Milano, Giuseppe Sacchi, 23 anni, di Arona. Si salvò Eugenio Manni in quanto si era fermato nella sua abitazione di Gevio per cambiare le scarpe.